Nel video di oggi affrontiamo un tema che ha scosso profondamente Alba Parietti e la sua famiglia, un dolore improvviso che ha colpito la showgirl come un fulmine a ciel sereno. Prima di immergerci nei dettagli di questa vicenda delicata, ti invitiamo a iscriverti al canale e attivare la campanella delle notifiche per restare aggiornato sui nostri prossimi video e sulle ultime notizie. Prima di continuare con il video, vi interessa ottenere un buono Amazon da 30 euro in soli 5 minuti in maniera completamente gratuita, sicura e veloce? Per riceverlo aprite i commenti e seguite la guida fissata nel primo commento sotto questo video o nella descrizione. Alba Parietti, un volto noto dello spettacolo italiano, si è trovata recentemente al centro di una controversia che ha avuto luogo durante la rievocazione storica della disfida di Barletta, un evento simbolo del nostro orgoglio nazionale. La storica battaglia, avvenuta nel 1503, vide 13 cavalieri italiani trionfare contro altrettanti cavalieri francesi. Parietti era stata invitata a partecipare alla manifestazione, vestendo i panni di Elvira da Cordova, ma l'evento ha preso una piega inaspettata quando è stata criticata per aver usato il telefono durante la rievocazione. Le immagini dell'accaduto non sono passate inosservate e, in breve tempo, sono giunte fino al consiglio comunale, suscitando scalpore. Tuttavia, dietro questo gesto c'era un motivo personale molto più profondo e doloroso. Alba ha spiegato di aver utilizzato il cellulare per una chiamata urgente, legata a un lutto che l'aveva colpita proprio in quei giorni. In una dichiarazione toccante, la showgirl ha ammesso che, in quel momento, avrebbe voluto soltanto rifugiarsi in una stanza e piangere. Nonostante il dolore straziante, ha scelto di mantenere il suo impegno professionale, trovando la forza di partecipare alla manifestazione. Con grande fatica, Alba Parietti si è presentata all'evento, cercando di onorare il ruolo che le era stato affidato. Ha spiegato che la meravigliosa accoglienza del pubblico di Barletta e il rispetto per il suo lavoro le hanno dato il coraggio necessario per continuare, anche se il peso della sofferenza era immenso. Pur non essendo a conoscenza del divieto di utilizzo del cellulare durante l'evento, ha chiesto scusa pubblicamente per il breve momento in cui ha dovuto fare quella chiamata. Alba ha sottolineato come sia stato estremamente difficile per lei prendere parte alla manifestazione in quelle circostanze, ma ha voluto onorare il suo impegno con tutta la professionalità e la forza di cui era capace. Ha concluso chiedendo comprensione, ricordando a tutti che, nonostante la sua immagine pubblica, è un essere umano e in quel momento aveva bisogno di conforto. Cosa pensi delle motivazioni di Alba Parietti? Ritieni giusta la sua spiegazione? Faccelo sapere nei commenti e non dimenticare di iscriverti al canale e attivare la campanella per restare aggiornato sui prossimi video e sulle ultime notizie. Grazie